Allora, sinceramente avevo risposto al tuo commento inizialmente con un video educato, perché non aveva ancora letto le tue stesse risposte al tuo stesso commento. Il primo commento dici che questo al quale ho risposto il bimbo mostriciattolo, il secondo dici che te hai una cava rossa e il terzo commento quando ti viene detto che tu sei bella, tu dici a verità sì, molto. Non so, ci chiedevano questa fantasia perché si uscesse, regandimena viva, non so, a fianco a te si uscesse, pargargamel gabrunghite. Ma a prescindere da questo, a parte essere eccesso esteticamente perché si può pucesse, te lo devo dire purtroppo, sei pure brutta dentro. Io non sono una persona cattiva, però lo divento all'omento in cui mi hai toccato mio figlio. Adesso che la bellezza sia una cosa soggettiva, su questo non c'è dubbio, però sull'oggettività, ovvero la bellezza oggettiva di mio figlio, non si può ragionare. Per il semplice motivo che è un bambino, e non so se te l'hanno mai detto questo fatto, però in genere, se ci tutti i bimbi sono belli. Ma non perché uno vuole nascondere la verità, perché ci sono bambini che nascono più stressate rispetto agli altri, ma semplicemente i bambini durante il corso della loro crescita, soprattutto nei primi nove mesi, cambiano. E i bambini, non so se lo sai, sono anime innocenti e di conseguenza è un peccato, peccato, lo dico io, lo dice Dio, è peccato dare un giudizio del genere ad un bambino. Adesso quello che non è peccato per me è dirti che si uscesse, perché tu veramente si uscesse, e non so chi ti ha fatto credere che si bella, perché là c'è stato un problema di fondo, cioè tu veramente ti credi che si bella, soprattutto per andare a sparare giudizi del genere su persone, adesso che siano persone adulte uno può parlare in video, ma quando si commenta così su un bambino non è in video, qua è cattiveria, c'è cattiveria pura. E quando ti dico che si uscesse, non lo intendo esteticamente, cioè esteticamente sicuramente che basta guardare i tuoi TikTok, però all'interno ancora di più, capito, esteticamente tutto può congiare che esiste la chirurgia, però dentro è grave fatta. Adesso mi viene da dire Alessia mi ha dato importanza, non dovevi troppa importanza, non voglio, perché sto fatto che uno se gli dà importanza, deve fare l'essere superiore, non deve ci fare, no, non esiste, perché quello a me potete dire quello che ho pulito, ma quello a mio figlio no, perché venga più a casa per casa. Non mi interessa, assolutamente, il fatto che io sia sul social non dà diritto a nessuno, a nessuno di giudicare, innanzitutto la mia vita, ma poi mio figlio, ma tutto a posto. C'è ma tu sei una povera, ma tu ti fai cura, c'è ma veramente una povera, ma mi piace per te, è come se bello e buono tu vissi vicino a un carrozzino di una persona che non conosci, guarda su, tu dici, smaro, non mi che mostro i cattoli, il problema è che lo fate sul social, perché da vicino il coraggio di sparare queste cattiverie non lo apriste, perché siete consapevoli che a chi appassionano tanti chili paccarono un mucco, no, che hanno avuto proprio idea. E per questo il social lo fa in guaiate, soprattutto la gente come te, che ha un cuore piercing, tutto muscolato, tutto avuto andato, però sta chiusa, rinno di casa, rinno di terra, capite che sta da fare? Perché essere messi in contatto con altre persone decenti del pianeta non è cosa posto. Ora, scusate il mio sfogo, sapete che sono generalmente una persona corretta ed educata, ma quando c'è può, c'è può. E cara, Camilla via, bilotto, balotto, come cazzo, diciamo, mo battacco qua in poca.